Il mio idolo è Marcos, portiere campione del mondo nel 2002 con il Brasile, sempre stato il mio idolo fin da bambino e mi piace molto anche Peter Cech del Chelsea sono loro due i portieri che mi piacciono di più e che hanno lo stile che più si avvicina al mio Per quanto riguarda Julio Cesar, no, non ho ancora parlato con lui prima di arrivare a Napoli Con il Napoli sono sicuro di aver fatto la scelta giusta perché ho lasciato una squadra importante come il Santos in Brasile per una ancora più forte come il Napoli che in questo momento in Italia lotta per Scudetto e Champions League Ho capito che era il momento giusto a 23 anni per andare via del Brasile e venire in una squadra così grande e così importante che gioca in Serie A Damiano è una vera punta, un bomber di razza che corre e cerca sempre di fare gol è uno che segna ma aiuta anche la squadra in fase difensiva da questo punto di vista infatti ricorda molto Edinson Cavani e poi uno come lui troverebbe squadra praticamente ovunque è vero, Balotelli calcia degli ottimi rigori ma io userò la sua stessa tecnica aspetterò fino all'ultimo momento l'attaccante e farò in modo che sia proprio Balotelli a tirare dalla parte che voglio io questo è difficile ma編 inserisco e inserisco inserisco inserisci inserisco Grazie a tutti